Una partita che non sa da giocare. Parafrasando il Manzoni, particolarmente popolare nella zona compresa tra Milano e i Laghi, si può ben dire che la gara tra l'Urania-Milano e Palla Canestro-Biella sia quasi stregata. In realtà di paranormale c'è ben poco. Il primo rinvio risale a qualche settimana fa. Inizialmente calendarizzata per domenica 2 gennaio, nel bel mezzo delle isteriche festività natalizie targate Omicron, l'ultima giornata del girone di andata aveva già conosciuto il primo slittamento. Si trattava di un rinvio corale, perché la Lega e la Federazione, di fronte all'evidenza dei numeri, all'ondata di tamponi prenatalizi e successivi rientri dai cenoni, avevano giustamente pensato di spostare l'intera giornata avanti di due settimane. Il 16 gennaio, questa domenica, il calendario sarebbe dovuto ripartire da quel turno, per poi riprendere normalmente. E in effetti così dovrebbe essere, ma non per Urania e Biella. Le due società sono accomunate non soltanto dai colori sociali rosso e blu, ma anche dai problemi legati a qualche positività riscontrate nelle ultime settimane al rientro dalle feste, che hanno costretto i rispettivi coach a lavorare senza poter mai contare sul gruppo al completo. Da qui la decisione presa di comune accordo di rinviare la partita di domenica alla Palalido, o meglio la richiesta congiunta di rinvio accolta dalla Federazione. Una decisione presa senza particolari remore anche da parte dell'organizzazione. In questo momento del campionato, a complicare i calendari, oltre a virus e derivati, è la classifica da stipulare al termine del girone di andata. Le prime della classe dei rispettivi gironi, al giro di Boa, si qualificano per la Coppa Italia di categoria, che come da consuetudine si disputa nelle prime settimane di marzo. Da ciò la necessità di completare tutte le gare dell'andata. Urania e Biella, altra similitudine, sono però facilmente esentabili. Essendo invischiate nella zona bassa della graduatoria, la loro partita non costituisce un dato rilevante per la Lega. E infatti il recupero, stando alla società meneghina, è stato fissato alle 20.30 del prossimo giovedì 10 marzo, a ridosso del weekend di Coppa Italia dove il campionato sarà comunque fermo. Biella fa invece sapere che la squadra continuerà a prepararsi per la gara del 23 gennaio, al forum contro la corazzata Udine. Prima c'è però da valutare se la giornata di domenica porterà a strascichi o se si potrà riprendere con relativa tranquillità. Intanto, rimanendo in tema, fa discutere in queste ore la situazione del canturino Robert Johnson. Il giustiziere di Biella, nella partita del 5 dicembre scorso, non è munito di super green pass necessario per giocare in Serie A2. I brianzolli potrebbero così rischiare di perdere la propria stella. Per uno strano e discutibile caso, Johnson potrebbe però giocare al piano di sopra in Serie A, perché in quel contesto il green pass rafforzato non è necessario. Strani casi dello sport italiano ai tempi della pandemia.